La nostra sezione porta avanti le attività tipiche di AIL nazionale, quindi finanziamento della ricerca scientifica in campo oncoematologico, cure domiciliari, pediatriche e adulte. Come sezione abbiamo ideato il servizio trasfusionale per i pazienti adulti, che è uno dei fiori all'occhiello della nostra attività e oggi eravamo qua in quanto partecipi di questo bel momento di unione, di condivisione delle nostre esperienze per quanto riguarda l'accoglienza. Accoglienza che a Firenze portiamo avanti su due strutture diverse, una qui vicina all'ospedale di Careggi e l'altra in centro, a titolo completamente gratuito per pazienti e i loro familiari che li accompagnano, che vengono da altre regioni d'Italia o dall'estero e vengono a curarsi qui negli ospedali cittadini. Ecco Fabio, il valore dell'accoglienza, il rapporto anche con Casa Aurora, come è nato? Casa Aurora è stato un buon modo di conoscersi perché una famiglia che ormai da diversi anni veniva saltuariamente solo il paziente, poi la famiglia in realtà con l'accompagnatore in modo continuativo e ripetitivo tutti gli anni per i vari controlli. Una volta non riuscì a trovare posto da noi in quanto avevamo tutte le stanze occupate ma venne comunque a trovarci durante il periodo di soggiorno a Firenze e chiacchierando con queste persone ci dissero guardate abbiamo avuto la sfortuna di non poter essere accolti da voi però abbiamo trovato quest'altra realtà di Casa Aurora dove ci troviamo anche lì benissimo e quello è stato il primo feedback che abbiamo ricevuto dagli ospiti riguardo alla realtà di Casa Aurora. Poi pian piano nel tempo con Esther, con Gian Barresi ci siamo conosciuti, i rapporti sono andati avanti e ad oggi è come avete potuto vedere prima un buon modo di collaborare in campo di accoglienza, quello di sentirci periodicamente, organizzare incontri sempre comunque al fine di migliorare i rispettivi servizi e di venire incontro alle esigenze degli ospiti. Quindi questa cosa che ha detto anche Gioele Muritto all'inizio nell'introduzione, l'importanza anche per Casa Aurora per tutte le realtà di fare rete? Quello è fondamentale, quello è fondamentale perché la quantità e la tipologia dei bisogni che ogni giorno si presentano sono veramente esterminate quindi pensare che un solo attore possa riuscire a far fronte a tutto è impensabile. L'unico modo è quello appunto di fare rete, di confrontarsi, portare ciascuno per la propria competenza quelle che sono le esperienze che ha maturato sul campo, confrontarsi e cercare di far sì che l'esperienza dell'altro possa giovare poi anche all'attività di ognuno di noi. Grazie. 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 Grazie.